San Guido di Anderlecht è una figura venerata nella Chiesa Cattolica, noto per la sua pietà e per i miracoli a lui attribuiti. Nato nel X secolo, la vita di Guido è stata una testimonianza della sua incrollabile fede e devozione. Dalle sue umili origini nel Brabante, in Belgio, al suo pellegrinaggio attraverso l'Europa, la storia di Guido continua a ispirare le persone a secoli di distanza. La sua vita, seppur apparentemente ordinaria, è diventata straordinaria grazie alla sua incrollabile devozione e agli eventi miracolosi che seguirono, consolidando il suo posto negli annali della storia di Guido. Grazie. All'età di 33 anni, Guido decise di lasciare la sua casa e intraprendere un pellegrinaggio a Roma, il cuore della cristianità. Lasciandosi alle spalle la sua vita familiare ad Anderlecht, Guido partì a piedi, portando con sé poco più di un bastone, un mantello e una piccola borsa di provviste. Lungo la strada, Guido faceva affidamento sulla gentilezza degli sconosciuti per cibo e riparo. Spesso barattava i suoi servizi come bracciante agricolo o operaio in cambio di un pasto e di un posto dove riposare per la notte. Il viaggio di Guido non fu solo un viaggio fisico. Fu un'esperienza profondamente spirituale. Trascorse innumerevoli ore in preghiera e contemplazione, cercando conforto e guida da Dio. Il pellegrinaggio di Guido fu una testimonianza della sua incrollabile fede e del suo desiderio di approfondire il suo legame con il Divino. Dopo mesi di duro viaggio, Guido raggiunse finalmente Roma, la città eterna e il centro del mondo cattolico. Per Guido, arrivare a Roma fu un'esperienza profondamente emozionante. Trascorse diverse settimane ad esplorare le numerose chiese e basiliche della città, meravigliandosi della loro grandezza architettonica e delle reliquie dei santi che ospitavano. Guido visitò le tombe di San Pietro e San Paolo, i due grandi apostoli che avevano portato il cristianesimo a Roma. Da Roma, Guido proseguì il suo pellegrinaggio verso est, recandosi in terra santa, il luogo di nascita di Gesù Cristo. Visitò Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, camminando sulle orme di Gesù e riflettendo sugli eventi della sua vita, morte e risurrezione. Il viaggio di Guido in terra santa fu il culmine della sua ricerca spirituale. Aveva raggiunto la fonte stessa della sua fede e provava un profondo senso di pace e appagamento. Dopo sette lunghi anni, Guido decise di tornare in patria. Portava con sé non solo i ricordi dei luoghi sacri che aveva visitato, ma anche un rinnovato senso dello scopo e un cuore traboccante di gratitudine per le esperienze che aveva avuto la fortuna di vivere. Al suo ritorno ad Anderlecht, Guido fu accolto come un uomo cambiato. Il suo viaggio lo aveva trasformato, infondendogli un profondo senso di pace e un'aura di santità che attirava le persone a lui. Condivideva i racconti dei suoi viaggi, ispirando gli altri con le sue storie di fede e perseveranza. Le persone erano attratte dall'umiltà di Guido e dalla sua evidente pietà. Continuò a vivere una vita semplice, dedicandosi alla preghiera, agli atti di carità e al servizio alla sua comunità. La vita di Guido divenne una testimonianza del potere trasformativo del pellegrinaggio, dimostrando come un viaggio di fede potesse approfondire il proprio rapporto con Dio e ispirare gli altri a cercare una connessione più profonda con il divino. Nonostante la sua salute robusta durante il pellegrinaggio, gli ultimi anni di Guido furono segnati dalla malattia. Lo stress fisico dei suoi viaggi, unito alle dure condizioni di vita medievali, aveva indebolito il suo corpo. Eppure, Guido non si lamentò mai delle sue sofferenze. Sopportò la sua malattia con pazienza e dignità, vedendola come un'opportunità per unire la sua sofferenza a quella di Cristo. Con il declino della sua salute, Guido cercò conforto nella preghiera e nella meditazione. Trovò conforto nei sacramenti della Chiesa, ricevendo la santa comunione e l'unzione degli infermi. Circondato dall'amore e dalle preghiere della sua comunità, Guido esalò l'ultimo respiro il 12 settembre 1012, all'età di 62 anni. Guido fu sepolto nel cimitero della Chiesa di San Pietro, la stessa chiesa dove aveva prestato servizio da giovane. Negli anni successivi alla morte di Guido, la sua tomba fu in gran parte dimenticata. La semplice lapide che un tempo identificava la sua ultima dimora, cedette alle ingiurie del tempo e degli agenti atmosferici, lasciando la sua tomba anonima e inosservata. Il flusso un tempo costante di pellegrini si ridusse a un rivolo. I loro ricordi del Pio pellegrino si affievolivano con il passare delle generazioni. Eppure, nonostante l'abbandono fisico e lo sbiadire dei ricordi, lo spirito di Guido di Anderlecht sopravvisse. Invisibile e inascoltata, la sua presenza aleggiava nel suolo stesso di Anderlecht, muta testimonianza di una vita dedicata alla fede e al servizio. Il palcoscenico era pronto per una serie di eventi miracolosi che avrebbero riportato alla ribalta il pellegrino dimenticato, cambiando per sempre il destino di Anderlecht e consolidando il posto di Guido nel cuore dei fedeli. Circa trent'anni dopo la morte di Guido, una serie di eventi inspiegabili iniziarono a verificarsi vicino alla sua tomba dimenticata. Gli abitanti del luogo che accudivano il loro bestiame nel cimitero riferirono di aver visto strane luci provenire dalla zona in cui si credeva fosse sepolto Guido. Altri raccontavano di essere stati miracolosamente guariti da malattie dopo aver pregato per l'intercessione di Guido. Con il moltiplicarsi delle segnalazioni di eventi miracolosi, aumentò anche il numero di persone che si recavano sulla tomba anonima di Guido. I malati e i sofferenti accorrevano sul posto, alla disperata ricerca di guarigione, e sperando di beneficiare della presunta intercessione del pellegrino. Un miracolo particolarmente convincente riguardò un ragazzo, storpio dalla nascita, che riacquistò la capacità di camminare dopo che i suoi genitori avevano pregato con fervore per l'intervento di Guido. Questi miracoli, testimoniati da numerose persone e che sfidavano ogni spiegazione logica, diedero nuova linfa al ricordo sempre più debole di Guido di Anderle. Grazie Grazie Oggi San Guido è venerato come santo patrono di Anderlecht. La sua eredità è profondamente intrecciata con l'identità della città. La chiesa, costruita vicino al luogo della sua sepoltura, la collegiata dei Santi Pietro e Guido, si erge a magnifico tributo alla sua vita e al suo impatto duraturo. All'interno delle sue sacre sale, i pellegrini e i visitatori possono rendere omaggio a un santuario dedicato al santo, ornato da intricate sculture che raffigurano scene della sua vita e dei miracoli attribuiti alla sua intercessione. Ogni anno, il 12 settembre, festa di San Guido, Anderlecht si anima di festeggiamenti. Le processioni si snodano per le strade, animate da stendardi e accompagnate da allegri suoni musicali. Oltre ad Anderlecht, San Guido è riconosciuto anche come il santo patrono del bestiame e di coloro che lavorano con gli animali. Gli agricoltori e gli allevatori spesso invocano la protezione di San Guido, chiedendo la sua benedizione per la salute e il benessere dei loro animali. La storia di San Guido di Anderlecht è una testimonianza della forza duratura della fede e del profondo impatto che una vita dedicata a Dio può avere sul mondo. Dalle sue umili origini, in un piccolo villaggio, al suo straordinario pellegrinaggio attraverso...